L'Aquila che ha vinto in rimonta, pensate perdeva 2-0 al termine del primo tempo contro il Termoli, è finita 3-2 per la squadra di Roberto Cappellacci, la quinta vittoria in 7 partite della sua gestione, 5 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta a San Benedetto del Trotto, questo è la prima golla del Termoli, vittorio Esposito di giustezza, batte il portiere dell'Aquila Michielin, classe 88, vittorio Esposito, fantasista che fa sempre golla, questo è invece il gol del raddoppio, lunga azione, il gol del raddoppio, insomma difesa dell'Aquila piuttosto distratta e c'è la rete al 39esimo di Longo, 0-2 all'inferno e ritorno, potremmo dire così perché nel secondo tempo cambia tutto, l'Aquila è infatti una rimonta davvero clamorosa, ci saranno i tre gol che stiamo per vedere, questo è il primo di Origlio, uno dei neoacquisti, degli ultimi arrivati della formazione di Roberto Cappellacci, classe 97, cresciuto nelle giovanili del Torino scorso anno a Gavorrano, ha giocato in Serie C in tante squadre, soprattutto nel Monza, 50 presenze, questo è il raddoppio di Banegas, questa volta di testa, nulla da fare per il portiere del Termoli, ottavo centro stagionale per la classe 1992, sicuramente valore aggiunto della squadra di Roberto Cappellacci, ma non è finita perché al 75esimo arriva il gol del 3-2 siglato da Jonathan Alessandro, dunque 3-2 l'Aquila, una vittoria di inestimabile valore.